Quando il vino è una questione di famiglia e l'amore per la propria terra si tramanda di generazione in generazione, il risultato non può che essere eccellente. E' forse questo il segreto per diventare grandi, trasformando un'azienda in una delle realtà imprenditoriali più importanti del settore e un'etichetta in un vero e proprio simbolo di pugliesità nel panorama enologico italiano. Un simbolo come il Castel del Monte, sulle cui colline affondano le ladici della famiglia Rivera e dell'azienda che dalla fine degli anni 40 porta il suo nome, grazie ad un'intuizione di Sebastiano Decorato, il primo a fiutare l'enorme potenziale vitivinicolo del territorio della Murgia. Da allora di strada ne è stata fatta tanta, grazie al lavoro, sperimentazione, rinnovamento ed una passione trasmessa di padre in figlio che dai vigneti finisce in ogni singola bottiglia di casa Rivera. La sua storia, questa storia, si lega indissolubilmente con quella di una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate al mondo del vino. Parliamo del Vinitaly di Verona che da 53 anni richiama i maggiori produttori ed esperti del settore enologico. Un appuntamento al quale l'azienda Rivera può vantarsi di essere presente fin dalla prima edizione. Siamo stati sempre presenti, abbiamo sempre creduto in questa manifestazione, una manifestazione che oramai ogni anno conferma la sua importanza, è uno specchio della viticoltura, dell'enologia pugliese, ma pugliese per noi è ovviamente importante questa immagine, ma è uno specchio nei confronti dell'intero mondo enologico e voglio dire che ci crediamo, ovviamente ci crediamo e per la presenza di 53 anni consecutivi, anzi direi addirittura prima del Vinitaly eravamo presenti qui a Verona, ricordi lontani ma ricordi che non si possono dimenticare e fa anche tra l'altro piacere vedere in queste occasioni come la Puglia si presenti ogni anno in maniera più consistente, ma non solo dal punto di vista quantitativo ma anche dal punto di vista qualitativo, si vede che nelle aziende vinicole pugliesi c'è una maggior fiducia, una grande fiducia nei propri prodotti e quindi con orgoglio si presentano le aziende ai mercati mondiali.